Ogni giorno io, quando passo sai, sento urlare oh baby, ma chi sei? Fin dalla pubertà mi han detto scenità, uomo o donna, non sai cosa fare, dimmi che vorrà andare via. Son la tua baby, così son se ne puoi, e nessun'altra mai, quindi deciditi, oggi vado, goodbye. Ok, ok, Francesca grazie mille, tra poco in quinta ti dicono come procede la cosa, grazie. Grazie, ciao.